Due Land Rover, una Jaguar rossa fiammante, un locale incastonato in una prestigiosa location, buona musica e 13 splendide donne per una serata fashion. E' questo il cocktail servito dall'equipe di Bella Di Marca come anteprima della stagione 2014. 1999, sino ai giorni nostri, 16 anni di storia vissuti come un brivido e ancora una volta in scena per la regia di Orbe, pubblicità e promo eventi, le due agenzie che con orgoglio e prestigio sostengono il concorso di bellezza nato nella marca ma che ha tutta la caratura per brillare oltre confine. Una nuova edizione, quindi, altra storia da raccontare, un'affascinante miss dai leggere, il tutto, firmato artisticamente da Miranda Arnosti, mentre la colonna portante rimane Gidio Barret. Ci aspettiamo sempre ragazze nuove, ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Noi ogni anno diamo sempre qualcosa in più alla gente. Infatti il concorso è migliorato nel corso degli anni proprio perché adottiamo la politica dei piccoli passi e questo ci permette di fare belle cose. Ti posso dire che sono contentissima perché ne stanno parlando in tanti. Ci sono tantissime ragazze iscritte quest'anno e quindi questo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Durante la cena, 13 incantevoli bellezze della natura hanno dato sfoggio della loro eleganza. Un'anteprima molto fine di quello che sarà il concorso già a partire da domenica 18 giugno a Vittorio Veneto in contemporanea all'Expo Motori. Fare il concorso bisogna essere sempre lineari e cercare di mantenere una certa qualità. Noi negli anni abbiamo dimostrato che questo l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Abbiamo sponsor che ci seguono da diversi anni e quest'anno abbiamo delle cose nuove che diventano interessanti e speriamo che l'inizio, già da questa serata di presentazione ma con Vittorio Veneto, partiamo già con un fotogruppo di ragazze più di sempre come partenza e questo è un buon aspicio per tutto il 2014. Tra le modelle presenti è anche la vincitrice dell'edizione 2006, Giulia Sartor, ora modella professionista nonché perla nell'ultimo videoclip firmato da Biagio Antonacci. Immancabile la regina di serata, Katia Abrazzo, missa bella di marca 2013, il volto che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Che cosa ti aspetti? Di dare un aiuto alle altre ragazze, cioè insegnargli, di stare un po' insieme a loro e di dargli coraggio come le altre hanno dato a me. Per ben dieci volte indosserai la corona di Miss Bella di marca. Sì, sarà difficile lasciarla perché è sempre un traguardo non indifferente, insomma, però sono stata contentissima di quello che ho fatto e di quello che farò. Grazie a tutti! Grazie a tutti!